Il pensiero chiaramente di stringersi attorno alle persone che hanno subito un lutto, una tragedia e quindi un dispiacere enorme e chiaramente tutte le persone che hanno la possibilità di dare un contributo affinché tutto questo venga un pochino allivato, lo si deve fare. Noi ci siamo mossi in questo senso perché è giusto che si faccia, perché noi abbiamo la possibilità per farlo e quindi lo si fa con grande sentimento, siamo molto vicini a quella della popolazione, sono cose che toccano le persone, ci sono stati molti morti, a cui tanti bambini, qualcosa che a confronto a quello che facciamo noi è qualcosa di tremendo, di tragico e quindi c'è grande tristezza in questi momenti. Spero che la popolazione comunque era già stata colpita anni fa all'Aquila, lì vicino, spero che possano trovare la forza per reagire a questa cosa che veramente dura.